Quali sono le vampate di calore maschili? Le vampate di calore maschili, come la più notta varietà femminile, innescano la sensazione di calore, anche quando la temperatura della stanza non è cambiata. Gli uomini che soffrono di questo problema si sudano e possono disturbare il suo sonno. Come con le donne, le vampate di calore si verificano a causa di un'interruzione dei livelli ormonali e gli uomini con livelli ridotti di testosterone potrebbero sperimentarli. Per gli uomini e le donne, le vampate di calore possono essere identificate da un'improvvisa sensazione di calore intenso o calore scomodo, che di solito dura per circa quattro minuti e, soprattutto, di notte. La pelle potrebbe arrossarsi e potrebbe verificarsi una significativa sudorazione. Tipicamente, la sensazione di calore è più intensa sopra la testa e il busto. Alcuni uomini notano che si svegliano di notte con lenzuola bagnate di sudore. Circa il 70% delle donne subisce vampate di calore come sintomo della menopausa. Gli uomini di mezza età sperimentano anche cambiamenti biologici in una condizione chiamata andropausa. La maggior parte degli uomini sperimenta solo una piccola riduzione dei livelli di testosterone, circa l'1%, e non mostra mai sintomi significativi. Le cifre sul numero di uomini colpiti sono difficili da determinare, poiché si ritiene che le vampate di calore siano un problema femminile, e gli esperti ritengono che molti uomini che ne fanno esperienza non riferiscano mai questi sintomi a un medico. Gli uomini che si sottopongono alla terapia della privazione degli androgeni come trattamento per il cancro alla prostata sono soggetti a vampate di calore. La terapia di deprivazione androgenica riduce drasticamente i livelli di testosterone per ridurre la crescita del cancro. Tra il 70 e l'80% di questi uomini sperimenta questo sintomo. Per la maggior parte delle donne, le vampate di calore sono una fonte temporanea di disagio, con sintomi che si sbiadiscono dopo circa un anno, anche se alcuni continuano a soffrire per anni. Le vampate di calore maschili derivanti dalla terapia di deprivazione degli androgeni solitamente scompaiono circa 3 o 4 mesi dopo l'interruzione della terapia. Per gli uomini con livelli di testosterone cronicamente ridotti, sia che si tratti di un trattamento medico o di una disfunzione, è probabile che le vampate di calore continuino. L'esercizio fisico regolare può alleviare i sintomi delle vampate di calore. Il cibo piccante e l'alcol possono innescare lampi e dovrebbero essere evitati, specialmente quando si avvicina l'ora di andare a dormire. Una doccia o un bagno fresco potrebbe ridurre la probabilità e la gravità del disagio. Le donne che avvertono vampate di calore spesso hanno trovato sollievo con terapie ormonali sostitutive. In molti casi, le vampate di calore maschili sono causate da una deliberata riduzione dei livelli di testosterone, quindi la terapia sostitutiva non è un'opzione. Studi promettenti sono stati condotti utilizzando estrogeni e progesterone, ma sono necessarie ulteriori ricerche. Gli antidepressivi possono anche dare sollievo a uomini e donne che soffrono di vampate di calore.